AgriZap è uno spin-off dell'Università degli Studi di Firenze che nasce dall'unione fra due gruppi di ricerca, zootecnici e agromodellisti. Insieme abbiamo deciso di portare innovazione e tecnologia in campo agroambientale, cioè per tutti coloro che operano nel settore agroambientale, dalle grandi imprese fino alle piccole aziende. In particolare, il nostro prodotto di punta è la piattaforma Vistok, una piattaforma che integra tecnologie già esistenti, innovative, come ad esempio il virtual fencing, che si basa su collari connessi a internet, che i bovini dal pascolo portano al collo come un tempo portavano i campanacci e che permettono non solo di vedere in tempo reale dove sono gli animali, ma anche di spostarli da remoto. In questo modo l'allevatore può spostare le mandrie dove è meglio farlo, come grazie ai modelli di simulazione di crescita del pascolo sviluppati da noi, basati anche su dati satellitari, dati agroclimatici, che indicano all'allevatore dove è meglio far pascolare il bestiame in tempo reale per preservare il pascolo, la sostenibilità ambientale dunque, ma nello stesso tempo permettere all'allevatore di raggiungere gli standard qualitativi e quantitativi della produzione che vengono richiesti dal mercato.